wayla ragazzi ciao a tutti e bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video unboxing ragazzi quest'oggi andremo ad unboxare questo tagliacapelli ricaricabile allora ho acquistato questo qui ragazzi perché il mio purtroppo mi ha abbandonato quest'oggi dovevo iniziare a tagliarmi i capelli perché sono fatti anche abbastanza lunghi e purtroppo ragazzi mi ha abbandonato anche il mio vecchio rasoio e così sono dovuto uscire andare dai cinesi e comprarne un altro ragazzi non ve lo nego che è una roba cinesata quindi mi raccomando ragazzi nei commenti siate abbastanza magnanimi dunque ragazzi dunque allora allora abbiamo il contenuto un tagliacapelli più una due tre e quattro testine da tre fino a 12 mm il pennello per la pulizia olio per le lame caricatore ac e manuale dell'utente dunque andiamo subito ragazzi a spacchettarlo insieme vediamo un po quello che ne uscirà fuori da questo scatolo perché sono anche abbastanza curioso ragazzi anche di poterlo provare un attimino ed eccolo qua dunque andiamo subito a tirarlo fuori che detta così suona male ma va bene ci siamo capiti e voilà perfetto fatemi mettere da parte un attimino lo scatolo ed ecco qui tutti i suoi componenti oppela tutti i suoi componenti all'interno dunque ragazzi allora come detto abbiamo le testine il rasoio il caricabatterie il pennello e anche l'olio dunque è un wetek il rasoio ragazzi devo dire che anche abbastanza carino sì dai è il solito tagliacapelli ragazzi non è che io sto cercando chissà che cosa però questo qui ragazzi l'avevo visto anche su internet non su amazon ma su aliexpress il costo di questo qui dai cinesi è di ben 17 euro mentre su aliexpress avevo visto lo stesso stesso colore stesso diciamo stessi articoli stessi accessori dal costo di ben 10 euro se non dico una big cavolata però ragazzi su aliexpress bisogna aspettare più o meno un paio di settimane per poter fare arrivare l'articolo mentre qui invece paghi e porti a casa dunque andiamo subito di prima cosa a tirar fuori il nostro rasoio elettrico ed eccolo qui ragazzi allora si presenta in questo stato come detto ragazzi spero soltanto che ne valga la pena dunque è molto massiccio ragazzi è molto molto grosso anche molto pesantino e infatti qui come potete ben notare abbiamo già un bel po di olio che fuoriesce dalla testina benissimo perfetto e niente ragazzi questo qui lo vado a togliere in modo che perfetto lo vado attaccare direttamente qui tanto comunque non mi serve vediamo un po se funziona funziona ragazzi funziona molto molto bene dunque il caricabatteria naturalmente l'ingresso è qui sotto colorazione grigia nera diciamo un po grigino questo qui grigio metallizzato su questo lato grigio acciaio diciamo color acciaio qui sopra fin qui sopra qui e poi dopo qui dietro qui ragazzi nero opaco qui diciamo che hanno dei puntini è molto molto carino anche questo qui invece è nero scuro e niente ragazzi questa qui è la testina abbiamo anche un paio di viti qui sopra qui per poter andare a smontare credo anche per togliere la la testina e niente ragazzi allora andiamo a vedere un attimino com'è che si possono utilizzare i petti i pettini davanti dunque sono segnati infatti sono anche abbastanza segnati vicino ragazzi come potete ben notare come detto ragazzi sono segnate qui sotto qui 12 mm e poi dopo sicuramente abbiamo anche 3 mm questa qui come potete ben notare 3 mm 6 mm ed infine dovrebbe essere da ben 9 mm quindi sono tutte quante segnate meglio così ragazzi meglio così almeno così non vado anche io in confusione dunque come detto vediamo un attimino come funziona anche il montaggio del latte del pettine sulla testina dunque vediamo un attimino abbiamo qui davanti se notate abbiamo uno due e tre pezzetti che sicuramente andranno a ecco va agganciato qui sopra qui in questa maniera forse credo di sì non lo so ora no allora aspettate aspettate un po' una roba ragazzi facciamo così dato che ci sta anche il manuale di istruzione faccio prima che lo vado a prendere almeno così vediamo un attimino anche insieme come vanno messe le testine dunque allora vediamo un attimino qui dice per poter togliere il pettine da sopra basta spingere e lui se ne viene che dovrebbe essere questo qui dopodiché possiamo pulirlo pulire le lame con il pennello sollevare le lame e pulire anche l'interno mentre invece qui pulire l'interno del corpo motore oliare accuratamente le lame e i punti indicati che sono questi due qui mentre invece la sostituzione delle testine sono disponibili quattro eccetera eccetera va bene allora per inserire la testina scelta posizionala nella parte posteriore della lama è premi contro il taglia capelli fino al clic di chiusura ah ok perfetto bene allora quindi dovrebbe essere in questa maniera qui oh santa misericordia se ne è venuto tutto quanto madonna ma è una cosa normale abbiamo già fatto dei danni signori madonna mia ammazza però che ma ma scusate ma è un'inclinazione che che non te la che c'è voglio dire non non ve la consiglio un'inclinazione del genere madonna mia che cos'è però comunque ragazzi sapete che cosa secondo me qui sotto qui sarebbe stato l'ideale metterci un piccolo schermetto lcd magari anche per vedere la carica della batteria a quant'è c'era anche un rasoio molto più grosso con il display sotto però non si ricaricava con il caricabatteria a parete ma si ricaricava tramite il cavetto usb type c da rasoio elettrico magari anche vicino ad un computer o ad esempio il caricabatteria a parete però ragazzi costava intorno ad una cinquantina di euro ho detto vabbè meglio meglio di no lascia fare vado a prendere questo qui che costa ben 12 euro come detto ragazzi con la testina avanti o meglio con il pettine avanti è ancora molto molto più pesante rispetto a quando non c'è il pettine davanti e come detto ragazzi questa cosa qui a riguardo del mettere e togliere il pettine è veramente una cosa molto molto angosciante perché voglio dire no allora se uno magari la fa anche in questa maniera allora forse magari sì però che tu devi andare a metterti con il pettine qua dentro così in questa maniera o ecco adesso sì adesso va molto molto meglio e come detto ragazzi questa qui è la misura 12 ora andiamo a vedere un attimino anche come si comporta con il taglio del capello forse magari vi posso fare un video dove mi sono già tagliato i capelli andrò a parlare per l'appunto del rasoio non so nemmeno ragazzi quanta batteria carica c'è perché non lo so magari vado ad utilizzarlo verso le sei di pomeriggio e rimango con i capelli mezzi tagliati comunque non lo so ragazzi non lo so andrò a vedere magari oggi pomeriggio quando andrò a tagliare il capello con questo determinato tipo di taglia capelli scusate il gioco di parole ma va bene lo stesso comunque ragazzi comunque allora andiamo a mettere a posto un attimino questa roba qui a posto tu mettiti qui allora facciamo così cerchiamo di sistemare a dovere un attimino sti cosini qui perché sono un attimino un po' troppo lasciati a loro stessi comunque ragazzi allora vediamo un attimino cerchiamo di capire anche come si toglie questo allora questo qui si toglie in questa maniera qui ora per cercare quantomeno di capire dove si deve oliare dunque aggiungere l'olio vediamo un attimino allora l'olio va messo naturalmente sulle sulle lame qui ma poi va messo anche credo qui dove sono questi queste due stecchette qui fatemi vedere fatemi dare un'occhiata al manualetto di istruzioni sì allora va messo anche lì sì perfetto ottimo quindi va messo sia qui sulle lame che anche qui sulle due stecchette però devo dire ragazzi che è molto molto oliato devo dire insomma si vede insomma l'olio che ho sulle mani e vabbè comunque questi ragazzi questo non dovrebbe essere un problema però ribadisco che secondo me ecco già ad esempio il montaggio è già un terno all'otto madonna mo lo devo rompere subito sto coso e che cos'è madonna mia ragazzi è veramente tanto 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 oliato sto robo fatemi pulire un attimino le mani perché veramente così non si può andare avanti allora fatemi buttare questo qui dunque quello che mi serve vabbè quello che mi serve dopo lo vado a prendere e vediamo anche un attimino come meglio possiamo sistemarlo però aspettate fatemi fare una cosa va fatemelo pulire un attimino perché con le mani oliate e cose eccetera eccetera non ve la non ve la assicuro insomma ecco sennò va finire pure che vi scivola di mano e vi casca a terra bene ragazzi allora come detto questo qui era il video tra virgolette diciamo così tra virgolette unboxing del nuovo rasoio elettrico che come detto ragazzi andrò ad utilizzare provare testare questo pomeriggio vediamo un attimino anche come si comporta spero ragazzi che si comporterà anche abbastanza bene perché come detto ragazzi e non è la prima volta che acquisto roba dei cinesi anzi sono veramente tante le cose che vado ad acquistare dei cinesi però ribadisco a riguardo di un tagliacapelli è ancora la prima volta perché quello lì che ho ancora adesso che come detto ragazzi non funziona più l'ho acquistato su amazon un bel po' di anni fa sto parlando ragazzi del 2010 2011 non mi ricordo e così ha smesso di funzionare e per non andare a prendere su amazon magari aspettare un pochettino di tempo per l'arrivo del pacco ho deciso di prenderlo per l'appunto dai cinesi che come detto ragazzi 20 euro certo te lo prendi te lo porti a casa lo utilizzi fai quello che devi fare e il gioco è finito però come detto andrò anche ad utilizzare questo tipo di tagliacapelli che ho appena acquistato dai cinesi bene ragazzi allora io concludo qui il video unboxing spero che vi sia piaciuto e se così vi invito a lasciare un like commentare ed iscrivervi attivare la campanellina condividere il video e noi ci becchiamo in un prossimo episodio ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti